Oggi finalmente abbiamo il video in italiano e farò del mio meglio per renderlo il più fluido possibile Sul forum della community di Youtube ho chiesto a voi ragazzi se ci fossero argomenti o domande specifiche e qui vorreste che rispondessi Una delle prime domande ricevute riguardava eventuali mie esperienze dirette con gli italiani o con le vacanze in Italia E si il mio ragazzo è italiano il mio ragazzo è italiano quindi si può dire che io abbia avuto un'esperienza italiana unica Ho appreso molto riguardo alla cultura del paese anche grazie all'incontro con la sua famiglia e i suoi amici In Italia ho avuto solo esperienze positive ad eccezione dell'aeroporto che è stata un'esperienza orribile Perché ho dovuto aspettare un'ora solo per superare i controlli di sicurezza Letteralmente non c'era molta organizzazione La mia personale impressione riguardo all'impressione è comunque stata positiva In Italia mi hanno tutti accolto con gentilezza e calore facendomi sentire a casa In termini di vacanza sono stata con mia nonna in Italia due anni fa Visitando in ordine Venezia, Venezia, Milano, Verona e Sirmione ho apprezzato molto tutte le città in cui sono stata Nonostante fossero classiche mette turistiche ricche di persone in viaggio Insieme il mio ragazzo che visiterò mette meno gettonate ma sicuramente incredibili Ho adorato Sirmione è una bella zona in cui a passeggiare molto più tranquilla delle altre città che ho visitato Venezia era bellissima, era piena zeppa di persone lo stesso vale per Filò, per Verona e per il centro di Milano Purtroppo però è difficile immergersi a pieno nell'atmosfera che l'architettura crea quando si è circondati da così tante persone Visitare l'Italia è sempre stato il mio sogno sia per vivere un'indimenticabile esperienza turistica che per vivere una tipica e genuina esperienza locale Sono contenta e mi ritengo fortuna di poter dire di averle vissute vissute entrambe Adoro l'architettura e i vecchi edifici vissuti perché sono ricchi di fascino e di storia Adoro le finestre e i balconi adornati con fiori e piante e adoro il modo in cui il sole colpisce gli edifici e dona un caldo poliore dorato che solo Italia sa regalare Ora, in termini di ciò che ho notato questa è la mia parte preferita perché mi fa sempre sorridere e mi ricorda vagamente anche la mia cultura Ho notato che voi ragazzi mangiate molto Pensavo di mangiare tanto prima di visitare l'Italia ma ho dovuto ricredermi Voi ragazzi mangiate tantissimo, molto più di quanto abbia mai fatto io Che è l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, il dolce, la frutta, il caffè e la mazza caffè Inoltre ho notato che voi ragazzi bevete durante i pasti e io non bevo mai mentre mangio La mia cena di solito consiste in una portata e tendenzialmente l'insalata è il piatto principale Ricordo una simpatica esperienza di cena tipica italiana dopo essermi seduta a tavola Arrivo la prima portata Gli antipasti seduti dal primo con una porzione abbondante e dal secondo pesantissimo Ero estremamente confusa quando ho visto le successive portate e ho provato comunque a mangiare tutto Ufficialmente non riuscivo più a respirare o ad alzarmi alla fine del pasto Ero morta Morta, davvero morta Per quanto riguarda le bevande Il mio ragazzo Il mio ragazzo mi ha fatto conoscere l'amaro Che è incredibilmente buono e abbastanza difficile da trovare in altre parti del mondo È una bevanda forte ma va assolutamente assaggiata L'alcol ha davvero un buon profumo il che lo rende facile e piacevole da bere Una cosa che mi fa sempre sorridere è quando voi ragazzi Tegnate alla digestione Adorate la digestione Che è un intero rituale dedicato alla digestione Quando finisco di mangiare Tendenzialmente io torno a fare quello che stavo facendo prima Posso camminare Posso saltare Posso fare le docchia Ma per voi non è così Ho scoperto che la digestione richiede una moltitudine di posizioni di riposo E o di posizioni eretta per essere considerata funzionale È funzionale per rendere una persona funzionata Persona funzionata dopo Ma è davvero così divertente per me Per me prendo spesso in giro il mio ragazzo a riguardo Sono cresciuta con molte delle stesse cose in Bulgaria Prima di trasferirmi in Canada Altre particolarità che ho notato sono Il colo deve essere sempre coperto con una sciarpa o un foulard Anche la minima presa esterna richiede qualcosa intorno al colo Il cappotto deve essere Rigorossamente chiuso bene La pasta deve essere cotta perfettamente Con il sale aggiunto prima che l'acqua bolla Il processo digestivo Il processo digestivo richiede di alzarsi almeno una volta Per far scendere il cibo successivamente a bocarsi Per qualche minuto Il che può includere un'opzione di bisolino completo Non puoi fare la doccia subito dopo aver mangiato Fa male alla digestione Non puoi uscire con i capelli bagnati perché sicuramente ti ammali Non puoi sederti sul marciapiede al freddo oppure le tue ovaie si congeliranno Anche questo vale per l'Italia In realtà questo punto fa parte della mia cultura Sono solo curiosa di sapere se l'elemento è in comune Alcuna mi ha chiesto come immagino un tipico uomo o una tipica donna italiana Lì ho sempre immaginati entrambi ben vestiti e di bell'aspetto con lineamenti militari L'uomo spesso con una sciarpa al colo Entrambi eleganti ed attenti al look Essere stata in Italia fisicamente ha confermato quello che ho sempre immaginato E si conclude qui questo video È davvero lungo ma spero che sia stato comunque piacevole ed interessante per voi Sentitevi liberi di farmi domande nella sezione commenti e risponderò a tutti quanti Vi voglio bene e grazie per il vostro supporto Davvero davvero grazie Ci vediamo nel prossimo video Ciao E farò del mio meglio E per il mio più fluido possibile Google Translate's Mistakes Sul forum della community di Youtube ho chiesto a voi ragazzi se ci fossero argomenti o domande specifiche e qui vorreste che rispondessimo Una delle prime domande ricevute riguardava eventuali mie esperienze dirette con gli italiani o con le vacanze in Italia Eh sì Il mio ragazzo è italiano Il mio ragazzo è italiano Quindi si può dire che io abbia avuto un'esperienza italiana unica Ho appreso molto riguardo alla cultura del paese anche grazie all'incontro con la sua famiglia e i suoi amici In Italia ho avuto solo esperienze positive ad eccezione dell'aeroporto che è stata un'esperienza orribile Perché ho dovuto aspettare un'ora solo per superare i controlli di sicurezza Letteralmente non c'era molta organizzazione La mia personale impressione riguardo all'impressione è comunque stata positiva In Italia mi hanno tutti accolto con gentilezza e calore facendomi sentire a casa In termini di vacanza sono stata con mia nonna in Italia due anni fa Visitando in ordine Venezia, Venezia, Milano, Verona e Sirmione Ho apprezzato molto tutte le città in cui sono stata Nonostante fossero classiche mette turistiche ricche di persone in viaggio Insieme il mio ragazzo che visiterò mette meno gettonate ma sicuramente incredibili Ho adorato Sirmione È una bella zona in cui appaseggiare molto più tranquilla delle altre città che ho visitato Venezia era bellissima Era piena zeppa di persone Lo stesso vale per Filò, per Verona e per il centro di Milano Purtroppo però è difficile immergersi a pieno nell'atmosfera che l'architettura crea quando si è circondati da così tante persone Visitare l'Italia è sempre stato il mio sogno Sia per vivere un'indimenticabile esperienza turistica Che è per vivere una tipica e genuina esperienza locale Sono contenta e mi ritengo fortuna di poter dire di averle vissute entrambe Adoro l'architettura e i vecchi edifici vissuti perché sono ricchi di fascino e di storia Adoro le finestre e i balconi adornati con fiori e piante E adoro il modo in cui il sole colpisce gli edifici e dona un caldo poliore dorato E solo l'Italia sa regalare Ora, in termini di ciò che ho notato Questa è la mia parte preferita Perché mi fa sempre sorridere e mi ricorda vagamente anche la mia cultura Ho notato che voi ragazzi mangiate molto Pensavo di mangiare tanto prima di visitare l'Italia Ma ho dovuto ricredermi Voi ragazzi mangiate tantissimo Molto più di quanto abbia mai fatto io Che è l'antipasto Il primo Il secondo Il contorno Il dolce La frutta Il caffè E la mazza caffè Inoltre ho notato che voi ragazzi bevete durante i pasti E io non bevo mai mentre mangio La mia cena di solito consiste in una portata E tendenzialmente l'insalata è il piatto principale Ricordo una simpatica esperienza di cena tipica italiana Ma poco dopo essermi seduta a tavola Arrivo la prima portata Gli antipasti Seduti dal primo Con una porzione abbondante E dal secondo Pesantissimo Ero estremamente confusa quando ho visto le successive portate E ho provato comunque mangiare tutto Ufficialmente non riuscivo più a respirare o ad alzarmi alla fine del pasto Ero morta Morta Davvero morta Per quanto riguarda le bevande Il mio ragazzo Il mio ragazzo Il mio ragazzo mi ha fatto conoscere l'amaro Che è incredibilmente buono e abbastanza difficile da trovare in altre parti del mondo È una bevanda forte ma va assolutamente assaggiata L'alcol ha davvero un buon profumo Il che lo rende facile e piacevole da bere Una cosa che mi fa sempre sorridere è quando voi ragazzi Tegnate alla digestione Adorate la digestione Che è un intero rituale dedicato alla digestione Quando finisco di mangiare Tendenzialmente Io torno a fare quello che stavo facendo prima Posso camminare Posso saltare Posso fare le docchia Ma per voi non è così Ho scoperto che la digestione richiede una moltitudine di posizioni di riposo E ho di posizione eretta Per essere considerata funzionale E funzionale per rendere una persona funzionante Persona funzionante dopo Ma è davvero così divertente per me Prendo spesso in giro il mio ragazzo a riguardo Sono cresciuta con molte delle stesse cose in Bulgaria Prima di trasferirmi in Canada Altre particolarità che ho notato sono Il colo deve essere sempre coperto con una sciarpa o un foulard Anche la minima brezza esterna richiede qualcosa intorno al colo Il cappotto deve essere rigorosamente chiuso bene La pasta deve essere cotta perfettamente con il sale aggiunto prima che l'acqua bolla Il processo digestivo Il processo digestivo richiede di alzarsi almeno una volta Per far scendere il cibo e successivamente a bocarsi Per qualche minuto Il che può includere un'opzione di pisolino completo Non puoi fare la doccia subito dopo aver mangiato Fa male alla digestione Non puoi uscire con i capelli bagnati perché sicuramente ti ammali Non puoi sederti sul marciapiede al freddo oppure le tue ovaie si congeliranno Anche questo vale per l'Italia In realtà questo punto fa parte della mia cultura Sono solo curiosa di sapere se l'elemento è in comune Alcuna mi ha chiesto come immagino un tipico uomo o una tipica donna italiana Lì ho sempre immaginati entrambi ben vestiti e di bell'aspetto con lineamenti militari L'uomo spesso con una sciarpa al colo Entrambi eleganti ed attenti al look Essere stata in Italia fisicamente ha confermato quello che ho sempre immaginato E si conclude qui questo video È davvero, è davvero lungo Ma spero che sia stato comunque piacevole ed interessante per voi Sentitevi liberi di farmi domande nella sezione commenti e risponderò a tutti quanti Vi voglio bene e grazie per il vostro supporto Davvero, davvero grazie Ci vediamo nel prossimo video E ciao E ho solo un po' di gioco 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 Per renderli il più fluido possibile Sul forum della community di Youtube Ho chiesto a voi ragazzi Se ci fossero argomenti o domande specifiche E qui vorreste che rispondessi Una delle prime domande ricevute riguardava eventuali mie esperienze dirette con gli italiani O con le vacanze in Italia E si Il mio ragazzo è italiano Il mio ragazzo è italiano Quindi si può dire che io abbia avuto un'esperienza italiana unica Ho appreso molto riguardo alla cultura del paese Anche grazie all'incontro con la sua famiglia e i suoi amici In Italia ho avuto solo esperienze positive Ad eccezione dell'aeroporto Che è stata un'esperienza orribile Perché 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 ho dovuto aspettare un'ora solo Per superare i controlli di sicurezza Letteralmente Non c'era molta organizzazione La mia personale impressione riguardo all'impressione è comunque stata positiva In Italia mi hanno tutti accolto con gentilezza e calore Facendomi sentire a casa In termini di vacanza Sono stata con mia nonna in Italia due anni fa Visitando in ordine Venezia Venezia, Milano, Verona e Sirmione Ho apprezzato molto tutte le città in cui sono stata Nonostante fossero classiche mette turistiche ricche di persone in viaggio Insieme il mio ragazzo che visiterò Mette meno gettonate Ma sicuramente Ma sicuramente incredibili Ho adorato Sirmione È una bella zona in cui a passeggiare Molto più tranquilla delle altre città che ho visitato Venezia era bellissima Era piena zeppa di persone Lo stesso vale per Filò Per Verona E per il centro di Milano Purtroppo però è difficile immergersi A pieno nell'atmosfera che l'architettura crea Quando si è circondati da così tante persone Visitare l'Italia è sempre stato il mio sogno Sia per vivere un indimenticabile esperienza turistica Che è per vivere una tipica e genuina 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 esperienza locale Sono contenta e mi ritengo fortuna di poter dire di averle vissute Vissute entrambe Adoro l'architettura e i vecchi edifici vissuti Perché sono ricchi di fascino e di storia Adoro le finestre e i balconi adornati con fiori e piante E adoro il modo in cui il sole colpisce gli edifici e dona un caldo poliore dorato E solo Italia sa regalare Ora, in termini di ciò che ho notato Questa è la mia parte preferita Perché mi fa sempre sorridere e mi ricorda vagamente anche la mia cultura Ho notato che voi ragazzi mangiate molto Pensavo di mangiare tanto prima di visitare l'Italia Ma ho dovuto ricredermi Voi ragazzi mangiate tantissimo Molto più di quanto abbia mai fatto io Che è l'antipasto Il primo Il secondo Il contorno Il dolce La frutta Il caffè E la mazza caffè Inoltre ho notato che voi ragazzi bevete durante i pasti E io non bevo mai mentre mangio La mia cena di solito consiste in una portata E tendenzialmente l'insalata è il piatto principale Ricordo una simpatica esperienza di cena tipica italiana Dopo essermi seduta a tavola Arrivo la prima portata Gli antipasti Seduti dal primo Con una porzione abbondante E dal secondo Pesantissimo Ero estremamente confusa quando ho visto le successive portate E ho provato comunque a mangiare tutto Ufficialmente non riuscivo più a respirare o ad alzarmi alla fine del pasto Ero morta Ero morta Morta Davvero morta Per quanto riguarda le bevande Il mio ragazzo Il mio ragazzo mi ha fatto conoscere l'amaro Che è incredibilmente buono e abbastanza difficile da trovare in altre parti del mondo È una bevanda forte ma va assolutamente assaggiata L'alcol ha davvero un buon profumo Il che lo rende facile e piacevole da bere Una cosa che mi fa sempre sorridere è quando voi ragazzi Tegnate la digestione Adorate la digestione Che è un intero rituale dedicato alla digestione Quando finisco di mangiare Tendenzialmente Io torno a fare quello che stavo facendo prima Posso camminare Posso saltare Posso fare le docchia Ma per voi non è così Ho scoperto che la digestione richiede una moltitudine di posizioni di riposo E o di posizioni eretta Per essere considerata funzionale E funzionale per rendere una persona funzionante Persona funzionante dopo Ma è davvero così divertente per me Per me prendo spesso Spesso in giro il mio ragazzo a riguardo Sono cresciuta con molte delle stesse cose in Bulgaria Prima di trasferirmi in Canada Altre particolarità che ho notato sono Il colo deve essere sempre coperto con una charman o un foulard Anche la minima presa esterna richiede qualcosa intorno al colo Il cappotto deve essere Rigorossamente chiuso bene La pasta deve essere cotta perfettamente Con il sale aggiunto prima che l'acqua bolla Il processo digestivo Il processo digestivo richiede di alzarsi Di alzarsi almeno una volta Per far scendere il cibo Successivamente a bocarsi Per qualche minuto Il che può includere un'opzione di pisolino completo Non puoi fare la doccia subito dopo aver mangiato Fa male alla digestione Non puoi uscire con i capelli bagnati Perché sicuramente ti ammali Non puoi sederti sul marciapiede al freddo Oppure le tue ovaie si concilieranno Anche questo vale per l'Italia In realtà questo punto fa parte della mia cultura Sono solo curiosa di sapere se l'elemento è in comune Alcuna mi ha chiesto come immagino un tipico uomo O una tipica donna italiana Lì ho sempre immaginati Lì ho sempre immaginati Entrambi ben vestiti E di bell'aspetto Con lineamenti militariani L'uomo spesso con una sciarpa al colo Entrambi eleganti ed attenti al look Essere stata in Italia fisicamente ha confermato quello che ho sempre immaginato E si conclude qui questo video È davvero, è davvero lungo Ma spero che sia stato comunque piacevole ed interessante per voi Sentitevi liberi di farmi domande nella sezione commenti E risponderò a tutti quanti Vi voglio bene e grazie per il vostro supporto Davvero, davvero grazie Ci vediamo nel prossimo video E ciao Ciao And I just want to give my boyfriend credit for fixing Google Translate's mistakes So, uh, yeah, anyway I'll see you guys in the next video Bye Bye